Un furto dal valore di circa 10.000 euro, quello messo in atto ieri sera al distributore automatico di carburante Kuwait sulla strada per Corigliano-Dotranto a Galatina. La banda di tre malviventi, con il volto coperto dai passamontagna, ha divelto la colonnina dell'erogatore di benzina, utilizzando un camion neveco per il soccorso stradale, rubato la sera prima a Casarano. I ladri hanno prima tagliato i cavi elettrici del dispositivo automatico e poi lo hanno letteralmente sradicato via. Questo è quanto emerso dalle prime indagini degli agenti del commissariato di Galatina, giunti sul luogo dei fatti, troppo tardi per fermare malviventi. Intanto è stato recuperato l'autocarro utilizzato per il furto e commissionati i rilievi al personale della polizia scientifica.